Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, in questo video parliamo del dramma di Alessandro Siani, 46 anni, comico, cabarettista, attore, conduttore televisivo, e in questo video sveleremo anche dei retroscena molto importanti dell'addio di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, da Striscia la Notizia, e prima di iniziare vi ricordo che a 700 like pubblicherò immediatamente un nuovo video. Sul primo canale di Marco Liguori avevamo magnificato l'avvento alla conduzione di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, i due sembravano la coppia perfetta per condurre Striscia la Notizia, il bravo ragazzo e la brava ragazza ogni sera a darci delle notizie, ogni sera a rallegrarci, ogni sera a strapparci qualche sana risata, sembrava tutto perfetto, ma poi, fulminaccia al sereno, è arrivata la notizia della sostituzione anzitempo, come sappiamo Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sono stati sostituiti a poche settimane dal loro esordio alla conduzione del TG satirico di Antonio Ricci e questa decisione, questa scelta, non è andata giù a tanti fan. Secondo gli iscritti al primo canale di Marco Liguori, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada erano la coppia perfetta per condurre Striscia la Notizia, il gradimento nei loro confronti era davvero altissimo e tutto ciò lo si può evincere dal recente video che ho realizzato su Vanessa Incontrada, video che in realtà è diventato anche virale, ma come dicevano i Queen, The Show Must Go On, l'attualità ci dice che Roberto Lipari e Sergio Frisch si sono insediati alla conduzione, in realtà si tratta di una coppia pilota che traghetterà, striscia la notizia fino al grande ritorno di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, i due faranno il loro gradito ritorno il 3 dicembre del 2021 e amici di Youtube all'inizio di questo video facevo riferimento ad un sondaggio, un sondaggio per capire quali sono le preferenze dell'audience, non solo, del primo gale di Marco Ligori, pertanto vi invito a condividere questo video per coinvolgere più persone in questo sondaggio, il sondaggio è semplice, in generale quale coppia preferite per la conduzione di Striscia la Notizia? A. Alessandro Siani e Vanessa Incontrada B. Sergio Frisch e Roberto Lipari C. Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, scrivetelo nei commenti, potete scrivere i nomi o semplicemente A, B o C. Amici di Youtube, grazie per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, partecipate al sondaggio, ciao a tutti!